Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te e con estremo piacere che vi do al benvenuto della mostra di disegno 2021-2022 in cui i ragazzi, gli allievi del primo, secondo, terzo, quarto anno e senior si sono prodigati in lavori stupendi. Il corso di disegno di Arte per Te è il fiore all'occhiello di questo canale, un corso di disegno fatto da persone vere, tante persone che si cimentano con enorme volontà, anno dopo anno, ad imparare la tecnica del disegno, superando difficoltà incredibili dettate anche dalla distanza materiale che si interpone tra di noi. Tutto quello che vedrete in video è frutto del loro continuo e serio lavoro. Sono stati brevissimi e quindi io voglio complimentarmi con tutti gli anni di corso e dare l'appuntamento sia a loro che a voi per l'anno del corso di disegno 2022-2023, le cui iscrizioni si riapriranno a fine agosto, inizi settembre. Per non perderti l'annuncio iscriviti cliccando sulla campanella e cercami anche su Facebook e su Instagram. Io lo comunicherò su tutti i social e se vorrai unirti a questa meraviglia che vedrai tra poco, sarai il benvenuto. Quindi ragazzi di tutti gli anni del corso di disegno di arte per te, complimenti! Questa è la vostra festa, do il benvenuto a tutti i vostri invitati e buona visione! E complimenti a tutti, siete il mio orgoglio! Buona visione! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.